Dice che ci sono gli uomini per bene, gli uomini hanno i sguardi corretti, sani, giusti, ma ci sono in queste società che viviamo gli uomini che hanno i sguardi nulli, anche diciamo cattivi, anche diciamo patologiche. Allora, in questi casi, se invece per esempio qui, una donna si mette con vestiti aperti, è più tranquillita, oppure con vestiti aperti. In questo caso, la donna, per esempio, a casa su mano, per suo compagnia, su marito, per aver diciamo, può esprimere diciamo, realizzare la sua femminilità, la stessa cosa se si fa al pubblico, può avere effetti controvicenti, invece questa sua femminilità potrà realizzare per il suo compagno, per il suo marito, ma non al pubblico. Anche le donne, voglio passare del tempo, hanno compreso questo fatto, più saranno, poi, con l'interesse della parola, più suscitano, diciamo, dando un senso del mistero, come donna. Non sono più protette a tutti. E' un'esempio. uscite di casa, lui dice no con velo, anche senza velo, ma con un vestito coperto, di scheletto, uscite. Poi un altro giorno, con un vestito aperto, vedete che sensazione vi lascia. Quando una donna si mette con un vestito di scheletto, c'è più serenità, c'è una diversità. La donna si mette con un vestito di scheletto, c'è più serenità, c'è più serenità, c'è più serenità. C'è più serenità, desiderano che le donne siano coperte in morso di scheletto. La donna si mette con un vestito di scheletto, c'è più serenità. La donna si mette con un vestito di scheletto. No, no, su questo sono d'accordo con lui, ma non a livelli estremi. No, nel senso che condivido il modo di pensare, ma non l'obbligo. Non l'obbligo, ma non l'obbligo. Bravo. Bravo. No. Quella cosa che si trova nel mare, come si chiama? Corallo. Esatto, comunque nel mare, no? Sì. La donna è una perla. La perla. Diciamo che queste donne per essere torta, ci sono anche in Iran, molte donne si vestano in modo discreto o bello. La donna arriva a questa conclusione. Più si copre in modo discreto, giusto, più si avvicina a perla, quello che dice nel mare. La palese. Fa questa metafora, lui, no? Secondo questa metafora, una donna si avvicina a perla, avendo un, diciamo, vestito, un modo di coprirsi discreto, non diciamo, diciamo, vero, come qui, ogni società poi è diversa tra l'altro, ma è un modo discreto. Ecco. Mi racconto una domanda? Sì. Sul discreto sono d'accordo. Però sul velo. No, questo non è discreto. Questo è castigato. Questo è un po' esagerare. Un po'. Il discorso, il discorso, secondo me, è fila. E che volo poi vanno oggi? Il problema è che non è stato un problema, però il problema è che non c'è la gente con la mano. Grazie. Grazie. E quello ha detto? Sì. Sì. Poi questo discorso, un nuovo, non c'è il discorso. Perché tanto si è già la risposta. No, ma sono maschilista. Perché tutto nello stesso. È anche cresciuto il colore di San Romano, che si può fare. Però le parole discrete. Però le parole discrete. Sì, ma non esagerando.